Il nostro Tg Sport La signora Carla era la vedova di Luigi Falcione, storico presidente del Campobasso alla fine degli anni 70. Ai figli Edmondo e Edoardo, quest'ultimo coinvolto anche nell'attuale società Rosso Blu e alle loro rispettive famiglie, va la solidarietà più affettosa da parte mia personalissima e da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolise. Da una brutta notizia, come spesso capita ad un compleanno, infatti oggi festeggia gli anni il nostro amico Antonio Dianni, al quale vogliamo augurare tutta la serenità e il benessere che merita. Quindi tanti auguri a questo nostro amico che segue sempre con grandissima attenzione la nostra programmazione sportiva. Calcio di Serie D si è giocata la quinta di ritorno. Vediamo i risultati nel girone F. Ancona-Agnonese 1-0, Boiano-Miternina 0-5, Fano-Termoli 1-1, Giulianova-Civitanovese 1-1, Isernia-Celano 1-1, Iesina-Pesaro 0-0, Maceratese-Matelica 0-3, Recanatese-Renato Curi 1-2, Sulmona-Fermana 2-5. In testa la classifica Ancona 50, Matelica 46, Termoli e Maceratese-Pesaro 38, Giulianova 34, Iesina 32, Fermana-Sulmona 30, Celano 29, Civitanovese 28, Fano 27, Olimpia-Agnonese 26, Amiternina 25, Recanatese 23, Isernia 18, Renato Curi 14, Boiano 3. Quinto pareggio consecutivo per il Termoli che ha ottenuto un pareggio per 1-1 a Fano. La società ha deciso che per tutta la settimana ci saranno allenamenti a porte chiuse. Alma Juventus, quarto minuto, Cesaroni serve Stefanelli, anticipato dalla difesa giallorossa, undicesimo. Il direttore di gara, il contestato da ambo le parti, Gianluca Sartori di Padova, prima concede un rigore al Termoli per un presunto Mani di Cesaroni, ammonisce anche il terzino del Fano. Poi si consulta con l'assistente e cambia completamente decisione. L'assistente che evidentemente nota una carica del Corred Ibogio proprio sul Under 94 Fanese. Proteste a non finire. Dei tifosi ospiti. Ventesimo, occasionissima per l'Alma con Cesaroni che lancia Shiba, che calcia alto, sopra la traversa. Ventitresimo, Bracci, anticipato da Patania, un po' morbido nell'occasione l'Under di Calcinelli, perché era totalmente in vantaggio sul portiere ospite. Sul capovigilmente di fronte, il Termoli per poco non sorprende Ginestra. Venticinquesimo, il gol Granata, Bracci che sul filo del fuorigioco beffa Patania, mettendolo a sedere e poi depositando in rete nella porta sguarnita. Ottimo comunque il lavoro di Shiba, il cui tiro veniva smorzato dalla difesa giallorossa. Trentesimo, Cesaroni stoppa e calcia da lontano. Palla a lato, il tempo si chiudeva ancora con il Fano, decisamente più in palla con Sassaroli che inventava la difesa giallorossa a salvarsi in conno. Un Fano che ricalcava in parte il primo tempo giocato con la Mazzalatese. Termoli piuttosto deludente, di tutt'altro tenore il secondo tempo con subito il pareggio siglato da Bomber Palumbo, dopo che la difesa Granata faceva alle belle statuine in area di rigore. Permiani era un gioco da ragazzi di testa, sistemare il paone per Palumbo. Ottimo l'intervento di Ginestra. Poi non poteva nulla sul tapin vincente, morbida comunque la difesa Granata che si faceva cogliere in contropiede. Decimo minuto, Shiba per Stefanelli, appena un attimo in ritardo il Bomber per Golese. Diciassettesimo, Ginestra, Monstro, chiudeva la strada a basso, a tu per tu con il portierone Granata. 22esimo, Omiccioli, forse un po' tardivamente, faceva uscire Bracci ormai estremato. Entrava il numero 20 Vittorio Favo. 23esimo era Sassaroli, spostato a sinistra in un ruolo propriamente non suo. Centrava la palla che arrivava a Lunardini, che calciava dal limite alto sopra la traversa. Ci voleva ancora una volta un'altra opposizione da parte di Ginestra per dire no al secondo gol del Termoli, che in contropiede gigioneggiava. Bravo il portierone su Miani. 32esimo, entrava fatica per il claudicante Torta. 40esimo, entrava anche Antonioni. Usciva Coppari, forse tra i migliori, un po' troppo tardi l'entrata in campo del Golden Boy fanese. L'ultima emozione era al 42esimo con Shiba lanciato a rete. Patania lo affossava, poi il direttore di gara era solo giallo. Dalla conseguente calcio di punizione Lunardini faceva ancora grande Patania che salvava il risultato. Finiva 1-1. Successo di misura della capolista Ancona contro un'ottima Olimpia agnonese. Rompe gli indugi l'Ancona. Dopo due minuti Sivilla calcia al volo. Lo imita due minuti dopo il suo compagno Marfia. Mira alta. Poi la partita inizia via via a decollare. All'ottavo Pazzi appoggia a Marfia. Sinistro radente l'erba è preciso. Biasella ci arriva e sventa. Insistono i padroni di casa. Corner stretto. Bondi appoggia a Marfia che di precisione chiama all'inzuccata Cacioli che a sua volta chiama all'intervento Biasella. Poi da corner nuovamente Cabeza di Cacioli che stavolta non inquadra lo specchio di porta. Diciannovesimo si spezza lo 0-0. Fa tutto Bondi e fa tutto bene. Prende palla al limite dell'area. Posizione centrale. Si porta spasso mezza difesa Granata. Ed egli mancino puro penetra a destra. Libera il tiro che passa sotto il braccio di Biasella e gonfia la rete per l'1-0 dell'Ancona. Ancona 1. Olimpia agnonese 0. Renato Rafael Bondi. Dopo il gol non molla l'Ancona. Anzi insiste. Azione travolgente di Bondi che sfonda sulla sinistra. Mette in area. Poi Sivilla appoggia a Pazzi a centro area. Pazzi serve fuori. Devi azione. Palla che torna Sivilla che mette giù di destro e calcia di sinistro. Biasella dice no. Due minuti dopo Bondi sfonda ancora sulla sinistra. Ci prova di Dio. Miracolo Biasella. Reagiscono gli ospiti. Contropiede agnonese innescato da Ricamato che lancia Di Benedetto che a sua volta vede esposito che caracolla sulla sinistra e calcia a rete. Lo richiude bene il primo palo. Un minuto dopo ancora occasione d'oro più trovata che cercata per gli ospiti. Ricamato lancia a lungo. Il cuoio sbatte sullo stinco di Cacioli e giunge a Di Benedetto che non ci pensa su due volte. Tira al volo che non inquadra però la porta. Scampato il pericolo torna in cattedra l'Ancona. 29esimo Pazzi viene steso al limite dell'area ma dopo poco la pelota arriva a Bondi cannonata respinta da Troccoli. Un minuto dopo è devastante ancora il brasiliano dell'Ancona sulla sinistra. Cross sul secondo palo. Di Ceglie salta bene e colpisce di testa. Biasella fa muro. Poi episodio da Moviola in area locale. Di Benedetto si destreggia bene in area dorica e va per le terre. Sprezzola di Mestre dice che si può continuare. Il tempo di vedere ancora una meraviglia del devastante Bondi che Sprezzola lascia tutti di stucco fischiando un calcio di punizione per l'Ancona al limite dell'area quando l'eventuale fallo di mano di Litterio era avvenuto pienamente in area agnonese. La punizione, sul seguente di Pazzi, si perde alta. Al 44esimo Bondi ci prova ancora. Biasella è lì. Finisce così il primo tempo. Ancona 1, Olimpia agnonese 0 ma il risultato poteva essere diverso e più ampio per l'Ancona. Tanto bello e divertente il primo tempo quanto diversa la ripresa. L'Ancona cerca il gol sicurezza ma non si rende mai davvero pericolosa. Ci prova ancora Bondi al decimo quando in posizione centrale gira di forza a rete ma sbaglia di poco la mira. Di Benedetto per l'Agnonese di gran carriera calcia alto. Poi di nuovo Ancona con un cross di Bambozzi che attraversa tutta l'area Granata. E quindi al 23esimo capita all'Agnonese la palla d'oro. Ricamato ruba palla a Bondi e vola in contropiede servendo Esposito che in area d'orica difende palla e serve il neo entrato Mancini che ci mette tutto quel che può. L'Ori blinda con bravura il risultato. Di lì in poi cresce l'Agnonese e cala l'Ancona che lascia ampi margini di terreno agli ospiti che però non sfondano mai. Nemmeno al 39esimo quando Gelonese serve erroneamente Vade che tira subito rimedia Cacioli in corner. Di lì in poi solo uno shoot alle stelle di Morbidelli e così dopo 4 minuti di recupero l'arbitro Sprezzola manda tutti negli spogliatoi. Risultato finale Ancona batte Agnonese 1-0. Su un campo a limite della praticabilità Iserni e Celano si sono divise la posta in palio. Finisce 1-1 la partita tra Iserni e il Celano in un campo di gioco quello dell'Ancellotta trasformato in una gigantesca pozzanghera dopo la pioggia degli ultimi giorni. Ma per il direttore di gara Pasciucu della sezione di Albano Laziale il rettangolo verde è praticabile e dunque si va avanti regolarmente. Impossibile assistere ad uno spettacolo calcistico ma almeno due gol riusciamo a vederli. E' qualche altro episodio sporadico da subito perché a 40 secondi dal fischio d'inizio appena il Celano guadagna una punizione grazie ad una scivolata di Tomarelli che finisce fuori area con la sfera tra le mani. La batte Granaiola dal limite ma si infrange sulla barriera. Al diciannovesimo si fa avanti un pericoloso aquaro davanti alla porta di Tomarelli ma non inquadra lo specchio della porta. Al ventiquattresimo è lancia ad avere una ghiotta occasione ma la difesa bianco celeste sventa l'attacco. Al trentanovesimo ci prova Bolzan con un tiro dalla distanza ma manda le stelle. A reti inviolate dunque si va negli spogliatoi. Con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa. Al quarto minuto di gioco assistiamo a un calcio d'angolo battuto da Bolzan che Tomarelli intercetta. Si lascia sfuggire la palla ma rimedia parando i tentativi prima di Tarantino e poi di Aquaro. Al sesto la svolta complice una difesa imbambolata Tomarelli anticipa l'uscita ma viene beffato da Aquaro che infila la rete dell'1-0. Lisernia reagisce allo svantaggio al dodicesimo Panico in ottima posizione si fa rifilare la sfera proprio davanti al portiere ed è sempre lui che al diciassettesimo va al lato di poco sempre da ottima posizione. Al ventunesimo registriamo una mischia in area e una conclusione di Riccardi che però non va a buon fine. Ventiquattresimo minuto di gioco Lisernia pareggia i conti con Panico che servito da Damizia mette la firma sull'1-1. Poi più nulla fino alla fine del match. Quinto risultato utile consecutivo per Lisernia che domenica dopo domenica smuove la classifica anche se lentamente. anche per il Celano è un punto prezioso ma su un campo del genere forse di più proprio non si poteva fare intanto i bianco celesti hanno già la testa al domenica prossima al derby col Termoli. Nell'anticipo del sabato il Boiano ha ceduto 5 a 0 alla Miternina nel post gara il presidente Domenico Di Conza ha annunciato anche l'esonero del tecnico Caggiano basket divisione nazionale B al Teramo è servito un tempo supplementare per avere la meglio sul Benafro la gara Palapede Montano è terminata 82 a 75 per gli abruzzesi in divisione nazionale C domenica Lisernia ha perso 86 a 58 a Mola in C regionale Chieti Rivali Mosani è terminato 83 a 76 il San Salvo ha ospitato e battuto 75 a 67 il campo basket l'NBC l'NBC KO 78 a 37 con il Pescara successo del Termoli 77 a 67 con il Roseto la gara tra NBC e Pescara andrà in onda oggi sul canale 12 Telemolise 2 alle 17 sul canale 112 Telemolise Sport alle 20 e 30 campionato d'eccellenza quinta di ritorno vediamo i risultati Cliternina Gambatesa 6 a 0 Gioventudda Una Roccaravindola 3 a 0 Montaquila Campobasso 1 a 6 Roseto Sesto Campano 3 a 2 Santeliana Vairano 1 a 3 Fornelli Pozzilli 4 a 0 Vasto Girardi Montenero 2 a 2 Venafro Alife 0 a 0 La classifica Campobasso in testa punteggio pieno 60 punti Gioventudda Una 49 Fornelli 43 Sesto Campano 40 Venafro 35 Roseto 29 Gambatesa 28 Vasto Girardi 27 Montaquila 23 Cliternina 22 Santeliana 21 Roccaravindola 20 Vairano 15 Alife E Pozzilli 14 Montenero 13 Dopo la ventesima vittoria in campionato contro il nuovo Montaquila il Campobasso è già con la testa dopo domani per la gara d'andata degli ottavi della Coppa Italia nazionale a Selvapiana Curva Michele Scorrano arriva Lavezzano. Ne abbiamo parlato con il tecnico rosso blu 30 tra campionato e coppa Italia questo è positivo come è stato positivo il rientro con gol di Corradino. Sì noi rispettiamo tutti gli avversario il Montaquila il Montaquila il Montaquila che veniva da una grossa serie positiva nelle ultime dieci partite aveva fatto 19 punti il che in questa categoria era al terzo o al quarto posto nelle ultime dieci partite. Noi li abbiamo rispettati sapevamo che avevamo Storossi che attaccava sempre gli spazi l'abbiamo preparata la partita e come sapevamo che loro avevano comunque dei problemi dietro perché anche come struttura come organi insomma noi abbiamo fatto la nostra solita partita fuori casa abbiamo mantenuto le belle distanze e secondo me abbiamo avuto tantissime occasioni a gol. Un pensiero all'Avezzano hai studiato questo organico che squadra ti aspetti a Selvaviana mercoledì? Una squadra che gioca a 4-3 con giocatori importanti in tutte le categorie hanno dietro Venditti e Tobacco anche se Venditti è squalificato in mezzo al campo hanno giocatori come De Angelis che ha fatto la C, Bisegna, Bovino c'è Maiorano davanti c'è Moro squadra importante però noi non siamo da meno noi cercheremo di fare la nostra partita cercando di stare attenti dietro e cercando di non prendere il gol anche perché non sarà determinante la partita di mercoledì si giocherà su due partite quindi il mercoledì ci sarà il primo tempo io mi auguro di recuperare qualche infortunato vediamo con Radino se può fare qualche minuto in più Guglielmi è recuperabile? Guglielmi penso che sia recuperabile io penso proprio che sia recuperabile quindi cercheremo di recuperare qualche giocatore e faremo la nostra onesta partita però devo essere sincero giochiamo contro uno delle squadre più forti del centro-sud noi siamo alla pari con loro però sarà determinante l'aiuto del pubblico e mi auguro che la gente accorra in massa allo stadio perché ci deve dare una grossa mano I 90 minuti di Rocca Ravindola tra Nuovo Montaquile e Campobasso andranno in onda oggi solo su Telemolise Sport canale 112 alle 15.30 alle 22.00 Netto il successo del Fornelli sul Pozzilli Dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia inferta dal Campobasso il Fornelli di Mister De Bellis travolge il Pozzilli di Capitanio per 4-0 dopo 90 minuti emozionanti e ricchi di colpi di scena ma diamo la cronaca del match al settimo già si riscalda la partita sì perché viene espulso Zaccaro per Rosso Diretto colpo alla sua entrata sul Vasiu anche un po' cattiva la decisione del signor Marraniello della sezione di Paola in provincia di Cosenza quindi il Fornelli giocherà in 10 uomini per il resto della partita ma i padroni di casa al quindicesimo nonostante l'inferiorità numerica passano in vantaggio Angolo di guadagno, Mingione spizza di testa e insacca il gol dell'1-0 Al ventunesimo sono sempre bianco-verdi, protagonisti con Grillo che da due passi spara una bomba che spatte sul palo e si spegne sul fondo Il Pozzilli si vede al venticinquesimo con la conclusione di Niro ma non inquadra lo specchio della porta 5 minuti dopo ci prova anche il Fornelli con carbone ma neanche lui, il numero 4 di casa, la inquadra Ma al trentanovesimo il Fornelli raddoppia, Ruggero spara, da guanno non blocca e sulla ribaltuta pronto qui Grillo a insaccare il gol Si concludono così i primi 45 minuti di gioco sul parzale di 2-0 e con le immagini di Giancarlo Bustelli andiamo alla ripresa Al settimo è Carbone che buca la difesa, poi subisce fallo in area di rigore ma per Maraniello è simulazione del bianco-verde che viene anche ammonito Al ventisesimo il Fornelli cala però il Tris Conclusione di Castaldi, sbatte su un difensore del Pozzilli e si inzacca il rete Al ventottesimo sono sempre padroni di casa con De Rosa che mette in mezzo per Carbone che non impatta bene di testa E nel finale il Fornelli cala anche il poker, con Infimo Si conclude così il match, larga vittoria per i Fornelli che ha dimostrato di valere molto Tempi un po' sfortunati per il Pozzilli che deve riprendersi a cercare l'astimata salvezza Sconfitta per 6-0 del Gambatesa a Campomarino contro la Cliternina Con un punteggio tennistico la Cliternina confeziona il secondo successo consecutivo Avviede sempre più allontanarsi la zona salvezza Un successo prezioso per il team di mister Mauro Ponzanesi che batte sul classa al Santa Cristina di Campomarino Il Gambatesa addirittura per 6-0 Incomincia bene la formazione di mister Totaro che al terzo sfiora il gol Con il colpo di testa di Conte sugli sviluppi di un calcio d'angolo con la palla sul fondo Ma al primo vero tentativo la Cliternina trova il gol Costruisce Florio dal fondo il cross perfetto dove D'Alessandro si avvita di testa E va a realizzare il gol del vantaggio Quello che spezza gli equilibri in campo E quello che regala il vantaggio alla Cliternina Che 4 minuti più tardi con Montechiari sulla corta ribattuta della retroguardia del Gambatesa Trova il gol del 2-0 Sulle ali dell'entusiasmo il team di Ponzanesi riesce a confezionare anche il terzo gol Il cross di Florio perfetto per Montechiari che arriva isolato nell'area piccola lasciata sguarnita E con il piattone fa 3-0 Siamo poco più della mezz'ora Ed è la Cliternina già in avanti di 3 gol Ancora la formazione di casa sugli sviluppi di un angolo D'Alessandro si gira bene ma non riesce a inquadrare lo specchio della porta Solo e soltanto Cliternina che nel finale del tempo trova il quarto gol Fa tutto benissimo Davide Grazia Pena che salta un avversario E in diagonale fa secco il portiere Capobianco per il gol del 4-0 Ancora la formazione di casa ad Alessandro Siamo in pieno recupero 48esimo l'attaccante proprio di Gambatesa Ex del Gambatesa Prova il sinistro con Capobianco che si salva alla meno peggio Con le immagini montate da Piero Pontico Siamo nella ripresa Parte subito il Gambatesa con la punizione di Conte che Colanero devia in calcio d'angolo Ancora la squadra ospite con Mauro Del Zingolo Ma Colanero arriva tempestivo sul pallone Chi si aspetta il Gambatesa trova invece la Cliternina Il piazzato vincente di D'Alessandro su punizione per la testa di Capitan De Pascalis Che realizza il quinto gol per la formazione della Cliternina Che trova ancora sbocco nella ripresa Esattamente al minuto numero 33 con Davide Graziaplena E con un'incredibile autorete di Florio Il gol comunque di Davide Graziaplena Per il sesto sigillo della formazione della Cliternina Gambatesa praticamente in bambola E per la squadra di Ponzanesi c'è ancora l'occasionissima Nella finale con Davide Graziaplena Che ha tu per tu con l'estremo difensore Si vede ribattere la conclusione Vittoria importante della Cliternina Che sala ancora di più in classifica Gambatesa sicuramente da rivedere Pallavolo femminile di Serie B L'Iserni ha superato 3-2 Lugento La squadra maschile sempre di cadetteria di Agnone Ha perso 3-0 a Potenza Solo vittorie per la nuova pallavolo Campobasso 3-2 la formazione femminile di Serie C regionale Con il Sambuceto Pescara In prima divisione la squadra maschile Ospite della Frivolle Campobasso Ha vinto 3-2 Mentre le ragazze hanno superato Tra le Muramiche 3-0 il Guglionesi Campionato di promozione quinta Di ritorno i risultati Agli Vinchiaturo 1-1 Campodipietra Torre Magliano 0-0 Castelmauro Casalnovo 3-3 Toro Civitanova 2-1 Riccia Molise 0-2 Rinviate Cerce Maggiore Maronero Casicura Real Termoli Spinete Matese 2-1 In testa alla classifica Sempre il Matese 50 punti Casalnovo 43 Riccia 37 Acli 32 Real Termoli 30 Vinchiaturo e Castelmauro 29 Cerce Maggiore 27 Molise Torre Magliano 25 Toro 21 Campodipietra 20 Roccasicura e Spinete 17 Maronea 14 Civitanova 11 Fine settimana Nero per le prime Della classe Capitolare anche L'Olimpia Riccia In casa Con il Molise Clamoroso Alla poce Con il Molise Che si impone Per 2-0 Sul campo Del Riccia Vittoria assolutamente Meritata per la squadra Allenata da Mitro Che ha dominato In lungo e largo Il confronto Per la formazione Di casa Invece un brutto tonfo Il secondo interno Consecutivo Dopo la sconfitta Di 21 giorni fa Contro il Torre Magliano Eppure la partita Sembra mettersi bene Per la formazione di casa Quando Tedeschi Al primo minuto Fa partire questo diagonale Con palla che attraversa l'area E nessuno arriva Sul secondo palo Al quarto però Gli ospiti passano in vantaggio Nicola Morosa Lavora un pallone Per Galati Il quale serve Colella Tirato ai 20 metri Palla che trafigge Viscusi Per l'1-0 Della squadra Di Mister Mitro All'ottavo Proteste per il pubblico Di Riccia Questo tiro di Ponte Landolfo Viene ribattuto Ciarradillo Con un braccio no Non si riesce a capire bene Fatto sta che l'arbitro Lascia correre All'undicesimo Arriva anche il raddoppio De Simone Sbaglia un clamoroso Retropassaggio Per Viscusi Ne approfitta Gianfagna Che si trova sulla traiettoria E mette a segno Il pallone Del 2-0 A questo punto Il Molise è galvanizzato Mentre il Riccia Cala in una crisi profonda All'amminuto numero 18 Punizione di Amorosa E Viscusi Si salva in calcio d'angolo Sul susseguente corner Ciarradillo ci fa Botta sicura di testa Sembra gola Ma Morrone Salva sulla linea Al 34esimo Ripartenza quasi mortifera Del Molise Gianfagna In becca Polzella Il quale lancia Giannotti Che supera anche il portiere Ma poi non trova la porta Al 36esimo Ancora più clamorosa La chance per Polzella Lancio di Amorosa Palla che arriva sul secondo palo A Nico Polzella Il cui diagonale termina alto Verso la fine del primo tempo Si vede finalmente il Riccia Al 45esimo Punizione di Polzella E Palo Antonio di testa Manda alto Poi 30 secondi più tardi Altra punizione di Polzella Palla deviata dalla barriera E Cianciullo Si salva in calcio d'angolo Nel secondo tempo Si aspetta una reazione del Riccia Ma si vede una sola squadra in campo Che è il Molise Al quinto Ripartenza fulminia Con palo clamoroso Di Gianfagna Che scatta Sull'affilo del fuorigioco 60 secondi più tardi Polzella Si lancia in contropiede Arriva solo davanti al portiere Ma manda fuori Al nuovono Altra azione di contropiede Con Gianfagna Che parte sulla destra Mette al centro per Amorosa Sembra gol Ma Viscusi ci mette un piede E salva la propria porta All'undicesimo Sta per accadere qualcosa di clamoroso Tromba rilancia dalla propria metà campo Palla che dovrebbe arrivare Tra le braccia di Viscusi Che scivola E per poco non arriva Un gol Che sarebbe stato assolutamente Assurdo nella sua dinamica Al diciassettesimo Poi il Riccia Rimane in dieci Perché Polzella Viene espulso per doppia munizione E con lui anche barometro Poco più tardi Dal diciassettesimo Al trentaduesimo Non accade più nulla La noia La fa da padrone L'ultima chance Al trentatresimo Con il nuovo entrato Ciccotelli Che mette una palla al centro Dove non arriva nessuno In questo modo Si materializza La seconda sconfitta interna Per il Riccia Che perde con merito Sul proprio campo Contro Molise Che ha giocato Assolutamente La sua partita migliore Della stagione Pareggio all'ultimo tiro Per il Castel Mauro Contro la seconda Della classe Casa al nuovo Il timido sole di febbraio Illumina il cuore L'orgoglio dei ragazzi Di mister esposito Che in zona cesarini Raggiungono un pareggio Che però vale oro Al San Lorenzo Il Castel Mauro Ospita il Casa al nuovo Squadra sul podio d'argento Nel campionato Ma che nel primo tempo Stenta a farsi notare La prima frazione di gioco Si tinge solo di bianco-rosso Protagonista poco incisivo Al sesto minuto E Trolio servito Con un lancio lungo Ad Antonacci Solo davanti alla porta Si ipnotizza Dopo due minuti E Consiglio A servire Trolio Che sfiora il pallone Spaglia alla porta E Francaville Costretto al tuffo Per difendere Al quarantaduesimo La situazione si blocca Prendo uno scenario Molto più succulento Per il secondo tempo Marco Consiglio Quasi non convinto Porta in vantaggio Con i suoi Con un tiro dalla distanza Con cui riesce a sorprendere Il numero uno pugliese Il secondo tempo Riprende dunque Dal vantaggio degli undici Di mister Esposito Che apre il sipario A un vero e proprio spettacolo Dopo un solo giro Di lancette Su una leggerezza Della difesa bianco-rossa Terlizzi Riagguanta I padroni di casa Al quindicesimo Sono ancora i pugliesi A condurre il gioco E su punizione Battuta da Capitan Stallone Su tutti Svetta Terzilli Che bugera così Sedile Al ventunesimo Colpo di scena Dionisio Nella mischia Viene trattenuto in aria E il signor De Santi Sinteggerrimo Assegna un calcio di rigore Sul dischetto Antonacci Riporta il pareggio Solo dopo un minuto Altro calcio dagli undici metri Stavolta A favore del Casal Nuovo D'Angelo Atterra Festa Anche qui Il direttore di gara Non ha dubbi A riportare il vantaggio Dei pugliesi E' Salino Al trentaquattresimo Azione sospetta Per cui tutto il Castelmauro Chiede il rigore Muscufo Viene atterrato Dall'avversario Ma qui De Santis Lascia correre Al quarantacinquesimo Lo stesso Muscufo Sarà poi espulso Per doppio giallo Per un fallo Ai danni di spatola Al quarantasettesimo Altra occasione Per il Castelmauro Con Dionisio Che non riesce Però a concretizzare Una partita Al cardiopalma Il cui vero regalo Lo dona Notaro Che al quarantanovesimo Mitraglia Il suo pubblico Su punizione Battuta da Antonacci Il giovane Notaro Il più veloce scaltro Di tutti Così con tanti festeggiamenti Si chiude davvero Una bella partita Il Castelmauro Continua la sua striscia Di risultati positivi Mentre il Casal Nuovo Torna a casa Con un po' di amaro in bocca Un punto a testa Magara senza gollo Quella disputata Tra Campo di Pietra E Torremagliano Finisce 0-0 La partita Dell'antistadio Selvapiana Tra il Campo di Pietra Ed il Torremagliano Con la partita Condizionata Nella ripresa Da un forte vento Il match Comincia Con il minuto Di raccoglimento Per la scomparsa Della madre Del capitano Del Campo di Pietra Luca Cretella E dopo questo minuto Si comincia a giocare Il primo tiro Arriva al quindicesimo minuto Ci prova proprio Cretella Con la palla Che finisce di poco fuori Al diciassettesimo Risponde il Torremagliano Con il tiro di Di Tullio Miracolo di Fratangelo A deviare in calcio d'angolo Al ventitresimo Lancio lungo Cretella Fa la sponda Perrella Che entra in area di rigore Tira Ribattuto In angolo Un minuto dopo Proteste dei padroni di casa Cretella Prova a saltare E Caiola Va giù Per Giovanni Si può continuare E sul ribaltamento di fronte Per Rotta Cross dentro Basso per Manzo Che da solo Spara incredibilmente Alto sulla traversa Al trentatresimo È il campo di pietra Provarci Cross di De Pasquale Dalla destra Colpisce di testa Melfi Che di poco Non meffa Il proprio portiere Coccia Palla in angolo Con le immagini Di Antonello Di Griscio Passiamo alla ripresa Dove si alza Un forte vento E si vengono a creare Pochissime occasioni Da gol Come vediamo All'ottavo minuto Con le due squadre Che non riescono A tenere proprio Il pallone A terra C'è un folto conciliabolo Tra l'arbitro Gioviani E le due squadre Perché anche la bandierina Non riesce Proprio a stare su Si teme La sospensione Della partita Ma questo Non avverrà E si potrà Continuare a giocare Al trentesimo minuto Ci prova ancora Leacli Torremaiano Di Tullio Se ne va sulla destra Sul secondo palo Mette per Manzo Che tira Ma è bravissimo Di nuovo Fratangelo Al trentaduesimo Ci provano invece Il campo di pietra Cretella Parte sulla destra Entra in area di rigore Tira Deviato In calcio d'angolo Al quarantaduesimo E ancora L'ultima azione Per il campo di pietra Contropiede Cretella Entra in area di rigore Ma è caruso Lo anticipa All'ultimo secondo Dopo solo i quattro minuti Di recupero Gioviani dice Che la partita Può bastare Zero a zero Un punto a testa Che muove la classifica Di entrambe Le squadre Che si rifanno Delle sconfitte Di domenica scorsa Domenica prossima Altro scontro diretto Per entrambe Per il campo di pietra C'è la trasferta Di Civitanova Mentre per Leacli Torre Maiano La partita Casalinga Contro il Quercus Cerce Maggiore Tiro al volo Arripa Limosani Il Tav Moffa Ospitato la terza prova Del campionato D'inverno Fossa Olimpica 57 gli iscritti Al primo posto Michele Chiovitti Secondo Mario Spidalieri Al terzo posto Raffaele Della Valle Adesso vediamo I risultati Della prima categoria Girone A Carpinone Rufre 2 a 1 Cerro Pesche 0 a 3 Colli Conca Casale 6 a 0 Macchia Montenero 2 a 1 Real Prata Forulum 4 a 1 San Pietro Avellana Carullo 1 a 2 Sestolese Sanniti 4 a 2 A riposato Pizzone In testa Troviamo Macchia E Carpinone 37 Sestolese 33 Real Prata 32 Risultati Del girone B Baranello Pietra Montecorvino 2 a 2 Colle Danchise Ielzi 0 a 1 Macchia Valfortore Fossaltese 3 a 0 Mirabello Cerce Maggiore 5 a 1 Murgansia Morgia 0 a 0 Oratino Voltorino 2 a 2 Gildone Ripalimosani 2 a 1 In testa Il girone B Gildone 36 Ripalimosani 35 Pietra Montecorvino 33 Mirabello 32 Andiamo infine al girone C Colle Torto San Martino 0 a 5 Campobasso Calcio Guglionesi 2 a 2 Larino Endas 2 a 0 Quartiene Norte Frentania 1 a 2 Sant'Angelo Ururi 1 a 1 Santo Stefano San Giacomo 3 a 0 Sporting Termoli Petacciatese 2 a 0 Riposato Campomarino In testa a questo girone troviamo San Martino 40 Ururi 35 Sporting Termoli 34 Quartiere Nord 33 Vi ricordo l'appuntamento con Molise a Calci alle ore 21 insieme a Gianni Bruno Tabita Morcese ci saranno ospiti naturalmente avremo commenti opinioni interviste e la nostra Moviola Molise a Calci alle ore 21 questa sera su Tele Molise è tutto buon pomeriggio a buon pomeriggio Grazie.